Era la fine degli anni 70 dello scorso secolo quando un gruppo di tecnici di BMW Motorrad, appassionati di fuoristrada, chiese l'autorizzazione a sviluppare un prototipo di moto adatta anche all'off-road sulla intramontabile base del boxer bicilindrico Vera Griff del Marchio. Era la fine degli anni 80 quando la regina del rock'n'roll Tina Turner intonava la mitica canzone Simply the Best. In entrambi i casi stiamo parlando di due best seller che non hanno bisogno di presentazione, due miti che rappresentano l'eccellenza e sono il meglio che si possa desiderare. A Berlino, dove ha sede BMW Motorrad, la passione è una cosa che viene presa molto sul serio da più di cento anni e così da quei primi timidi esperimenti nel 1980 nacque la prima indimenticabile R80GS, la capostipite di una stirpe di successo che da 43 anni domina le classifiche di critica, reputazione e soprattutto successo un po' in tutto il mondo. L'ottava generazione porta con sé una vera rivoluzione del modello e al tempo stesso recupera un forte legame con lo spirito originale che condusse alla nascita della GS. La denominazione della BMW GS13 chiarisce molto bene una delle principali novità, l'aumento della cilindrata, che ora arriva a 1300 cm³. Ma questo è solo un piccolo antipasto rispetto ai cambiamenti davvero importanti che rendono questa GS tutta nuova. Il motore, per restare in argomento, è più compatto e leggero, tanto che sui 12 kg di peso in meno rispetto alla precedente, ben 6,5 kg sono quelli guadagnati grazie alla dieta del propulsore. Ma non basta, questa nuova unità ora ha il cambio posto sotto al motore e non più al posteriore. Questo ha consentito di ridurre ulteriormente l'ingombro del powertrain, di migliorare la distribuzione delle masse e del baricentro, consentendo tra l'altro di montare un forcellone posteriore più lungo a tutto vantaggio della stabilità e della guidabilità della moto. Anche la ciclistica della nuova GS è tutta nuova, con un telaio in acciaio più rigido. Se l'elettronica svolge un ruolo importante nella gestione della ciclistica, non è assolutamente meno presente in tutte le altre funzioni disponibili per questa BMW 1.3 GS 2024, che infatti ha una dotazione davvero impressionante. La piattaforma inerziale evoluta consente un monitoraggio istantaneo di ogni aspetto della marcia ed offre al pilota una scelta praticamente infinita di funzioni per poter sfruttare al meglio in ogni momento la propria motocicletta. Sulla R1.3 GS sono ora presenti due radar, uno anteriore ed uno posteriore, che danno accesso al cruise control adattivo e alla frenata automatica d'emergenza, ma anche al sistema luminoso posto negli specchietti retrovisori, che avverte se qualcuno o qualcosa entra nell'angolo cieco della moto. È nuovo anche lo schermo da 6,5 pollici, grazie al quale è facile tenere tutto sotto controllo e che ovviamente è collegabile con il proprio smartphone. Grazie ai nuovi blocchetti elettrici, durante la guida è più semplice e intuitivo provvedere ad alcune regolazioni, come il riscaldamento di selle e manopole, altezza del parabrizza e così via. La nuova R1.3 GS è una moto del tutto nuova e differente dalla generazione che l'ha preceduta, ovvero la R1.250 GS. Il look è molto più snello, affilato, dinamico. Il design ha richiesto una gestazione lunga, quasi sette anni dei primi sketch alla linea definitiva, che ha dovuto tenere conto, oltre agli infiniti aspetti tecnici, anche degli effetti aerodinamici che su questa moto sono stati meticolosamente studiati. La congiunzione fra serbatoie e selle è davvero sottile, si possono tenere le ginocchia del pilota in una posizione molto naturale e confortevole, che diventa valida anche nella guida in piedi quando si affronta un po' di fuoristrada. Il manubbio ha larghezza e forma azzeccate per dare a chi guida una rassicurante sensazione di buon controllo della moto e le pedane consentono una posizione comoda, che non affatica nemmeno dopo lunghe ore di guida. La nuova R1.3 GS stupisce già dai primi metri, sembra talmente agile e leggera che diventa difficile ricordarsi di essere in sella ad una maxi enduro. Non è una semplice sensazione, questa GS è la più brillante, dinamica e divertente GS che abbiamo mai guidato. Si entra in confidenza con lei in un istante e mano a mano che la si guida, l'intesa diventa sempre più salda, più intima, sembra quasi che sappia in anticipo dove vuoi mettere le ruote e cosa vuoi fare. I pochi tratti di strada relativamente veloci ci hanno permesso di sentire la solidità dell'assetto e la stabilità nelle curve affrontate allegramente, ma è nelle stradine più anguste, fra mille tornanti in salita e discesa con fondo stradale spesso infido, che la nuova GS ci ha lasciati letteralmente a bocca aperta. L'impressione è realmente quella di avere tra le gambe una moto di cilindrata assai inferiore, tanto questa grossa BMW R1.3 GS sa essere docile, facile e intuitiva. Il motore aiuta non poco ad enfatizzare le doti di agilità della moto, perché al di là della superiore cavalleria, sa essere estremamente reattivo in tutte le condizioni, anche quando se ne voglia sfruttare appieno la coppia e l'elasticità. È una moto che, siamo sicuri, si farà amare molto da chi ci salirà in sella e che ha tutte le qualità per perpetuare il successo straordinario di questo modello. Grazie per la visione!